Ma che è proprio ora che sta giocando in Napoli? Saber, consegna da Liberi, avete ordinato una pizza. Sì, ma un'ora fa, ma ho incominciato pure la partita. Iramini prima. Lo so, mi ho fatto pure altre consegne. Sono stato prima al quinto piano, poi al quarto piano, poi al terzo piano, poi al secondo piano. E io so, al primo piano che fai, tu al contrario fai. Lo so, ma è peccato, io così mi perdi i clienti. Sì, ma così mi sto perdendo la partita del Napoli. Margarita. E credi, io ho ordinato margarita, crede sta cosa qua. Perché mi piace. Margarita, perché? Perché? Questa è una nuova idea del proprietario, ha fatto un menù esotico. Questa è la famosa margarita, banana, provola e ananassa. Assaggia. Quando uno apri un camacetone mi porto. Assaggia. Dicca al proprietario che ha una saba proprio e fa questa. Ma chi è schifo e chi sa mangiare? È bello. Una saba fa pizza. Un'altra volta. Ma chi è? A te di giovanotto vi siete lamentati? Ancora voi? Ma non facevate i deliveri? Proprietario della pizzeria, che tenere questa pizza che non va? Tutto, per carità, chi è rito, mamma mia che puzza. Quello è il quadro. Bravo, un quadro di lontananza. Assaggiate. Ma non ci penso niente. Non sono mangiando una seconda partita del Napoli, pure la cena. Non ci penso niente. È bello però, mentre si guarda la partita, mangiare una buona pizza, una pizza e compagnia. No, ma io non voglio compagnia nessuno. Ma assaggiate. Viate bene e ditegli al pizzaiolo che non saba proprio faticato. Ma perché? Ancora? Ma come non vi è piaciuta questa pizza che ho fatto veramente a mostra? Ma facevi una proprietaria. Pizzaiolo da generazione, che tenere questa pizza che ha fatto? E non sei fu il pizzaiolo. Quello è bellissimo, quello è una poesia questa pizza, mi illumini d'immenso. Bravo, secondo me l'hai fatto in due scuri questa pizza. Lo voglio un consiglio. Vai all'Accademia Nazionale della Pizza Doc. Ti impari a fare il pizzaiolo, frequenti corsi e poi mi porta la pizza, va? Ma stai indusso che è una partita e pure la pizza. Pizza Doc Si scioglie in due scuri quando gioca il Napoli. Ah, finalmente si è andato all'Accademia della Pizza. Adesso sono un bravo pizzaiolo. Passaggi ora. Mo si, oi. Buonissimo, eh. Asignano, hai segnato un app. Aspettate un momento, eh. Chi ha, signano? Chi ha, signano? Ma sta giocando bene il Napoli? Permesso? Scusate, se è andato in me, fratella a vedere la partita. Posso? Salve, permesso. Scusate, se è andato in me.